Impianti fotovoltaici venduti a 5 volte il loro valore di mercato, clienti indotti a chiedere detrazioni fiscali del 50 e del 60% anche sull'acquisto di elettricità dalla rete. Sono questi alcuni elementi che vanno a costituire la truffa degli impianti fotovoltaici. Nel nuovo mercato dei servizi energetici, tutto compreso, infatti, sembra ci sia anche qualche furbetto. Almeno secondo quanto denuncia Adi Consum del Friuli Venezia Giulia, che ha recentemente messo in luce dei possibili illeciti, incentrati sulla vendita abbinata e contestuale, di impianti a energia rinnovabile e di contratti luce e gas. Un esposto in seguito al quale la Guardia di Finanza ha avviato un'indagine. Nel Mirino ci sono ben 13 imprese, operanti un po' in tutta Italia. Praticamente aziende che operano nel settore delle rinnovabili hanno escogitato un escamontage per sommare alla vendita di un prodotto rinnovabile, nel caso fotovoltaico, ma anche caldaie, pompe di calore o qualsiasi altro prodotto con la detrazione fiscale al 50-65%, l'acquisto anticipato di luce e gas. Questa somma riferita alla luce e gas veniva sommata al valore del bene rinnovabile. Quindi, ad esempio, trovavamo un prodotto del valore anche di poche migliaia di euro, venduto a decine di migliaia di euro. Il tutto questo veniva occultato in un'unica fattura riconducibile al bene rinnovabile e portato in detrazione fiscale, facendo commettere al consumatore un illecito fiscale, in quanto la fornitura di energia era inglobata dentro questa fattura ed occultata. Queste aziende, che non operano in maniera corretta, hanno un modus operandi ben specifico. La cosa da tenere in considerazione sono magari alcuni termini, quali bolletta zero, accumulo virtuale, bonus energia, card energia. E soprattutto, alcuni casi hanno visto ricevere una lettera dall'acquirente unico, dove sono usciti dalla fornitura dell'azienda con cui avevano sottoscritto un contratto e sono stati forniti dal Servizio Elettrico Nazionale.